Le prime della classe si fermano, sorride solo l'arenato Curiangolana che spugna Grotta Mare, supera il Casoli, aggancia al secondo posto da Provasto e accorcia Dalfano a meno 4. Partita risolta tra mille difficoltà, le tante assenze, il gol del vantaggio marchigiano di Polenta e, dopo il bel pareggio in tuffo di Beppe Rachini, l'espulsione nella ripresa di Mucciante. Una bella azione travolgente, confezionata dai nerazzurri e finalizzata da Cacciatore, consegna i tre punti. L'unico derby di giornata va ad un morro d'oro per una volta cinico ed essenziale tra le muramiche. Sfrutta al meglio le uniche due palle gol su altrettante palle inattive convertite, in rete dall'esperto Ruscitti e dal giovane Vaglini. Provasto a reti bianche al Tubaldi di Recanati, la Santa Egidese vince nel Festival del Gol sul campo delle Epidienze. Autentico mattatore di giornata è Andrea Bucchi, autore di una tripletta. Il primo gol è vanificato dall'autorete di Bagnara. Le altre due reti sono inframezzate da quella di Max Fanesi. Prattica archiviata sull'1-4, anche se le reti di Sperandeo e Cederoni regalano alla Santa un recupero da batticuore. Ma la rimonta non si completa. Vittoria più difficile del previsto per il Chietti contro una maceratese ultima ma tutt'altro che rassegnata. Ad inizio ripresa sblocca il solito Genchi su punizione. A 5 dalla fine partita chiusa dal palonetto di Alessio Rosa. Le tre partite saltate si recupereranno mercoledì 25 febbraio. Dimezzata la ventisesima giornata di eccellenza, ma gli spunti non mancano. In vetta le distanze si accorciano ancora. Il milianico fiaccato da diverse assenze non va oltre l'1-1 con il Castel di Sangro. Anzi vede anche la sconfitta perché dopo l'espulsione di Divisio subisce la rete di Fonseca a tre minuti dalla fine. Reagisce e pareggia subito con Conversano. Risultato giusto. L'Aquila ne approfitta. Rischia in apertura con Pigliacelli. Poi trova la via della rete. Cross di Marcos Bolzan e puntuale incornata di Sicotello. Poi gestione senza patemi da parte di una difesa che nelle ultime otto partite ha perso un solo gol. Pariero Cambolesco tra Tessa e Colonia Paese. Padroni di casa avanti con il rigore di Beniamino. Di rimessa, nonostante l'espulsione di Scaringi, la Tessa arriva al raddoppio con l'azione personale di Scippo. L'attaccante poco dopo viene espulso, a tre minuti dalla fine. In doppia superiorità numerica, il Colonia riesce nell'improbabile rimonta con le reti di Morelli e di Carfagna. Portiere con comprovate abilità da centro avanti. Il pari fa scattare le polemiche in casa Tessa che subisce le espulsioni anche del medico sociale e del tecnico Mecomonaco. Anticipo sotto una fitta nevicata, il derby va ad un penne finalmente concreto per 3-1. Punizione pesante per un lauretum che aveva iniziato meglio prima di essere infilato da Faiete e Mancini a cavallo dei due tempi. Rifiniscono il punteggio, l'autorete di Polidoro e il calcio di rigore di Di Renzo. Sedicesimo pareggio stagionale per il Pineto, cui non basta il rigore in apertura di Xepa. Spreca diverse palle gol prima e dopo il gol del pareggio di Massimo Nunziato.